Noi abbiamo presentato una serie di eventi che vanno dalla riapertura della collezione d'arte contemporanea alla Certosa di Padula alla pubblicazione di un volume che praticamente è un catalogo dell'architettura fortificata costiera della provincia di Salerno e a una serie di percorsi che abbiamo definiti Genius Logi che sono dei percorsi soprattutto didattici avendo sempre come obiettivo ovviamente la conoscenza ai fini della tutela di una serie di beni architettonici, artistici e storici anche se adesso ce l'ho la consorella soprintendenza che è nata come una costola della nostra soprintendenza fino forse all'evento più significativo che è il completamento del restauro di San Pietro Accosto un restauro che è iniziato qualcosa come circa 40 anni fa che è andato avanti in maniera discontinua perché discontinui sono purtroppo i finanziamenti e quindi è andato avanti a Singhiuzzo però ci siamo riusciti ed è già un grande successo tenendo presente l'importanza di questo singolare monumento che è nato sui resti di terme romani, si è sviluppato in epoca per lo cristiano nel IV secolo ha avuto la sua fase Longombardo nell'VIII, ha avuto i suoi cicli di affreschi del XII e XIII secolo la sua veste barocca fino a giungere purtroppo al declino dalla fine dell'Ottocento al Novecento finché poi all'inizio degli anni settanti è iniziato questa lunga opera di recupero Quanti altre opere potrebbero essere restaurate a Salerno e in provincia ma purtroppo a causa della mancanza di finanziamenti non si fa nulla, quasi nulla? Purtroppo le risorse economiche sono, non dico azzerate ma poco ci manca contiamo soprattutto su quelle che saranno ancora per pochi anni, fino al 2013, i fondi comunitari ma è chiaro che la crisi economica si fa sentire pesantemente Grazie 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 Grazie